Ma citando un famoso film, le parole sono importanti e sono importanti perché devono essere seguite dai fatti. Allora, il discorso è questo. Può star bene il fatto di promuovere appunto un corretto stile di vita alimentare. Ma nel momento in cui nella promozione di un corretto stile di vita alimentare finisce la promozione anche di uno stile che è McDonald's, probabilmente qualcosa non ha funzionato in queste belle parole che appunto lei ha detto. Quindi penso che probabilmente quello che bisogna fare è molto di più, ovvero al di là del fatto che McDonald's e Coca-Cola abbiano fatto la parte del leone per quel che riguarda gli sponsor a Expo, questo non giustifica il fatto che poi vengano inclusi in questi programmi di educazione alimentare perché sono assolutamente un controsenso con le belle parole da lei pronunciate. Quindi assolutamente soddisfatta sulle parole, assolutamente insoddisfatta sui fatti. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2004. I deputati Rubinato ed altri concernenti iniziative anche ispettive in ordine alla vicenda relativa al reintegro dell'ex direttore dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano Treviso, condannato per peculato. Chiedo alla deputata Simonetta Rubinato se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire. Sì, grazie Presidente. Vorrei illustrarla anche per i cittadini che ci ascoltano in modo che intendano la formulazione dell'interpellanza fatta al Governo. Nell'aprile del 2014 veniva denunciato dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villorba a Povegliano il direttore dei servizi generali ed amministrativi con l'accusa di peculato. Nel luglio del 2014 l'ufficio scolastico regionale del Veneto procedeva con il suo licenziamento senza preavviso per aver sottratto nel periodo compreso tra il 2002 e il 2012 quasi 200 mila euro attraverso un sistema di supplenze fasulle assegnate fittiziamente alla madre distraendo le risorse su un conto personale in Svizzera. Egli aveva infatti tra le sue mansioni quella di liquidare con i fondi del Ministero dell'Istruzione le supplenze e i progetti scolastici, prima della direzione didattica che raggruppava le nove scuole tra infanzi ed elementari del Comune, poi dell'Istituto Comprensivo costituito da 12 scuole a partire dal settembre 2012 con l'accorpamento delle medie.